sopra mento ai miei tempi non c'era il sopra mento ai miei tempi si sopra mento quindi non vale vabbè per me la serie può concludersi qua perchè hai fatto una sola vittoria si il viaggio in giappone pagato ce l'ho ma scusami canale mio decido io eh tutto l'anno abbiamo davanti per una vittoria vuoi già finirla qua ma perchè tu ti senti in grado di battermi direi proprio di si dovevo fare la mia rivincita ragazzi voi che siete del team federic ma volete fargli capire qua sotto nei commenti che non ha speranze ma quelli del team michelle sanno ma quali chi è la vera regina di questo gioco non c'è nessun team michelle oggi dato che ho vinto io scelgo io la sfida ok e ti sfido con destino sfuggente abbiamo 60 bustine maledetto charizard mi perseguito ancora trovarne già 60 tanto è stato difficile non immagino 100 quindi sono pronto a portarmi al 2 a 0 perché forse all'una sotto i risultati non mentono ma tu veramente sei convinta che vincerai sono convintissima ragazzi lasciate questo pollice di inizio di supporto per il team federic ovviamente non per il team michelle che un pikachu oggi ma se ti sei dato da fare molto no no lascia lo stare ora bisogna di essere mostrato a me vedere cosa è combinato vabbè devo ammettere che oggi un po si è impegnata ero anche colorato certo 80 minuti per fare questo mi pare un po esagerato pensavo che avessi che ne so ho creato il santo graal di ggc online ma e che erano i quadretti paro dispari buttiamo le giù vincoglio e dato che vinco io inizi tu a ragazzi faccio iniziare lei dopo di che recupero io prima di iniziare ovviamente vi ricordiamo che a breve su federic store.it arriverà la sezione con i codici del gioco di carte collezionabili online pokemon stiamo lavorando la sezione quindi mi raccomando tenete sempre gli occhi puntati sul sito così da poter sciuppare la i vostri codici prego ma musel grazie comincia a segnare questo punto subito dove segnarlo primo pacchettino di michelle doppia carta doppio punto io l'avevo detto che mi sarei rifatta io l'avevo detto guarda che oggi ho questo è qualsiasi cosa fai sappi che ti leggo la sedia oggi è sappilo tanto sti punticini segnali segnali ragazzo incazzata attività incazzata questa come va a far 5 punti a pacchetto mio dio ma tu stai fuori ok ragazzi dai oggi recuperare cinque punti non è poi così difficile l'altra volta eravamo arrivati lì no stai buona così un punto è vero che le shiny in questa espansione valgono un punto ma vogliamo fare che chi trova il cielo no dai che voglio questi viaggi in giappone michelle dai aspetta che che vuole viaggi in giappone ok tutti punti sono questo 33 ragazzi io non so veramente cosa dire che mi stai facendo dalla scorsa è incazzata raga ha sbroccato raga ha sbroccato michelle ma si è buggato il gioco perché penso sia poi probabile 4 punti bello però questo reshiram raga ha sbroccato michelle non posso vincere non posso vincere perché che lo voleva il viaggio in giappone scusa no raga ho paurissima ha un'aura troppo potente per per poter vincere mai ai fatti punti della scorsa volta in un turno solo mi spiace federico ma questa volta vincerò io io anche non la lascerò io anche us aiutami tu non la lascerò vincere a te questa sfida un punto penultimo vai 1 e 2 ok raga ultimo del ultimo turno ho seriamente paura e sto segnando tutto no è questa no dai beh un punto scusi signore quanti punti ho fatto in questo turno scusi voglio sentirlo 15 15 15 grazie 15 punti in turno grazie mille prego no cos'è no 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 i capelli devo un attimo contenerla ragazzi scusatemi non avrei mai voluto farlo ma devo usare le maniere forti con questo ragazzi mi può portare solo alla vittoria vediamo sì primo punticino di buzzwall guarda la mairo accademia bam decu poi ci metto la canzonina sotto quella nana 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 ragazzi un punticino dai 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 non è male non è male vedete che questa funziona funziona benissimo ti tengo tranquilla aia aia quarto è impossibile eravamo partiti bene ma da ieri punticini due due gli allenatori cazzo ma dovevo stare zitto ma dovevo stare zitto vabbè vai avanti quinto dai 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 beh vai che sei solo quattro punti ragazzi c'ho il potere del guanto vai 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 bello due più uno tre ragazzi oggi punti proprio bene non battere mai però la mia fuori serie al primo tec tanto ti recupero quattro punticini niente 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 prima le ho fatti tre giusto ragazzi forse forse posso combinare qualcosa ma non lo so perché oggi il team michelle è abbastanza forte dai 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 sei di nuovo la potenza degli uccelli dentro di me forse suonava male andiamo avanti due punticini ragazzi quella full art dai anche questa fuori serie anch'io 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 ultimo ultimo ti prego ti prego ultimo ti prego ultimo non quello arrivato secondo a sanremo eh cioè intendo andiamo avanti dai dai siiii 5 punti anche per me con la ultrashine e l'allenatore 10 11 12 13 14 punti per il team federica che grazie al guanto riesce a portarsi in vantaggio scusate non riesco a prendere il passo non riesco a prendere il passo è quella la mia strategia impedirli ragazzi di far scorrere le sue vene la potenza e debilita un po stretto un po stretto ma non conterrà il mio potere si 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 che lo conterrà è già un punticino va bene io segno io segno segno è proprio con tipo il macellai guardo doppio sider triplo sider no gheridos un altro punticino è un po complicato però spacchettare così michelle è la mia tecnica eh se era semplice non te lo mettevo no voglio dire bello rock si però tu hai rotto a fare un punto a pacchetto eh siamo a 3 hai veramente stufato io ti avviso va bene dai mettiamo un po' doppio c'è risardo ma dai ma questa ragazzi fa un punto a pacchetto è incredibile ma un punto non è poca sostanza però stiamo là guarda che non è che mi stai proprio sopra eh mmm infatti devo devo aumentare non mi stai per niente sopra io voglio che continui a toccarti questo questo sta così ormai basta bella ragazzi mi sta opprimendo e appunto è fatta apposta stai in giù con sta mano vai 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 pinsir 4 punti 4 punti bene bene così doppia olo bene bene dai 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 ragazzi dai dai che termina questo turno con soli 8 punti niente arriva 10 forse 10 arriva 10 o forse con questo arriverò altri 15 ma perchè ci trovano tutte queste carte in destino spugge se non lo so perché oggi si è un po' buggato il gioco bene ok ben 10 punti per questo turno michelle buono così 10 punti sai che cosa facciamo la conteniamo un altro po' no non riesco a muotermi questa è violenza sui pikachu violenza sui pikachu devi stare buona oh comincia a far caldo questo coso addosso comincia a far caldo bene vai dai ragazzi la potenza dentro di noi si con un onyx vai ragazzi la potenza del guanto questa è la potenza del guanto eh vediamo vediamo uno due boom baby il team federic è in aree stabile quest'anno ragazzi vabbè 5 punti il 2020 è nostro 5 punti con un bel tapulele beh bella carta la sai tipo l'attenzione eh no adesso ti vado a trovare anche il chaisar dai niente vabbè hai detto chaisar chaisar ho gli incubi su qualsiasar chaisar vale 15 eh no vale 15 e quanto vale allora normale facciamo valere 4 almeno almeno 4 facciamo valere no vabbè vale 3 vale 3 appunto vediamo ragazzi doppia doppia mannaccia poco eh eh sono un po' spedito ragazzi perchè sono in cerca di questa ultrashine dai mannaggia niente eh ah cavolo sono 6 punti pensavo di più vabbè oh io ne ho fatti 10 eh 7 bella Mewtwo bella Mewtwo ora si bella non basta devo almeno trovare altre due carte da eccole 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 si 2 punticini beh con guzzlord e onyx 9 ragazzi mamma mia 9 dai 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 clefable sto a 9 lei ha fatto 10 se riuscissi a fare anche un 4 6 3 ragazzi si porta in vantaggio il team federic si porta in vantaggio con sylveon gx ultrashine e siamo a 12 punti non riesco a muovermi no bene bene ragazzi la mia tecnica sta funzionando allora no siamo 25 per michelle e 26 per federic ho già aperto un pacchetto e non ho trovato niente quindi si l'ho segnato l'ho segnato non saprei vai vai non saprei minnaggia ragazzi ora ora miscia deve stare attenta perché questa è l'ultima occasione che ha per vincere perché poi sono io a recuperare eh non ci credo non ci credo 5 punti ora no 5 punti ora no 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 ma sono la stessa combinazione di cat che è uscito da prima no raga 5 punti adesso no così no io aprirò prima che mi contieni si ti ho contenuto abbastanza ma intanto un punto l'ho fatto sei stupido ok ragazzi ho dovuto scocciarla un altro po' dai niente no mi sa ragazzi che sta uscendo il potere anche se l'ho contenuta bene 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 cavolo ho fatto 8 punti in un turno gli mancano ancora 4 pacchetti non va bene 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 non va affatto bene 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 per federic male per me no 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 due punti adesso ragazzi se non trova niente ti prego ti prego ok ora se ultimo se rimane così stabile è buono ok un punto termina questo turno con 11 punti con un totale di di 36 36 36 per michelle 26 per me devo fare più di 10 punti se no si va al pareggio 10 punti in un turno non è impossibile almeno con questa espansione lei è ben legata quindi dai dai ok iniziamo con un lucario bello shiny iniziamo subito con un punticino ragazzi ce la possiamo fare non è impossibile non è impossibile eeeh newtube ultra shiny 5 punti con esilio di giovanni e si porta subito a 6 ragazzi il team federic incredibile questo è un handicap dai dai ragazzi mi mancano 4 punti mi mancano solo 4 punti per pareggiare dai 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 ok 3 punti ragazzi ragazzi 3 punti per pareggiare solo 3 siiii e vince il team federic con ara del giudizio e giudicate voi ragazzi chi è il team migliore nel 2020 michelle non c'è federic regna no 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 e non c'è nemmeno bisogno di continuare perché non posso farlo ho vinto il viaggio in giappone è mio eh devo continuare a spacchettare eh perché teoricamente io ho vinto così ah mi sto strappando i capelli ma io ho vinto si ma sai che volta tu strapparti i capelli cosa ti sei strappata oggi cosa la dignità aaaaaaah aah ci vediamo al prossimo video basta che senso ha aprire gli ultimi pacchetti tanto ormai michelle ha perso lasciate questo mi piace per il team federic che si porta 2 a 0 sottomento ahahahah